Chiedere a tutti i partiti di deporre le armi, incominciare a lavorare seriamente insieme, confermando Mario Draghi alla guida del paese e andando avanti con un governo di unità nazionale perché questo paese non ha alternative praticabili. Perché un governo che l'ETA comunque dice di non voler fare PD, 5 Stelle, Fratoianni e Bonelli porterebbe l'Italia al disastro, non saremo capaci di fare un rigassificatore o un termovalorizzatore. Faremo la patrimoniale e altre fesserie del genere. Un governo di destra se c'è i rischi che abbiamo appena detto e sono comunque coalizioni che si spaccherebbero in un minuto perché si detestano. Finisco per essere più pacifico io di loro, il che è paradossale.